Miracolati, due vicentini sarebbero rimasti coinvolti nel tragico incidente in Perù. Erano insieme ad altri turisti sulla strada che va a Machu Picchu quando il loro autobus che scendeva dall'antica città della Inca si è schiantato facendo un volo di 15 metri. Fonti della Farnesina parlano di 13 italiani coinvolti di cui alcuni feriti, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Nella lista pubblicata dalla Polizia Nazionale del Perù con le varie diagnosi riportate ci sono anche i nomi dei due vicentini, marito e moglie di Lonigo, Luciana Bonfada e Angelo Florile, ricoverati a Cusco. Avrebbero riportato lei, lievi lussazione ad un polso, lui invece sarebbe praticamente illeso in osservazione in attesa delle dimissioni. Fonti del Ministero degli Esteri ci hanno informato oggi che due cittadini di Lonigo sono stati coinvolti nell'incidente stradale in Perù a Machu Picchu in cui si è ribaltato un pullman turistico. Per fortuna non dovrebbero essere in condizioni critiche. Una donna ha un polso lussato, l'altro è solo in osservazione e dovrebbe essere dimesso in tempi brevi.